buongiorno un attimo un attimo ragazzi si adesso lo spostiamo un attimo un attimo un attimo un attimo ok grazie buongiorno buongiorno a tutti benvenuti a casa Milan questo primo appuntamento con la nuova proprietà del Milan a tal proposito diamo subito la parola e il benvenuto al presidente Yong Hong che preghiamo di anticiparci con le sue prime parole da presidente grazie 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 5次 称霸 欧洲 7座 超級獎盃 曾经 重心想要的 和 宅滿容易的米蘭 让每个球迷 都懈戴着 他能够重回 欧洲之殿 因此 我们更加 認中而得远 将负责全世界 喊出 米蘭加油 的 球迷对米蘭未来的希望 董事会 及广里城 成员是由 足球 商业 金融 等领域的专业 仍然组成的 我们是一支稳定 高效的管理团队 所以 我们会让 专业的人 来做 专业的事情 并且 我们在几个月前 就以 伐策类相生 取得了共识 授抢伐策类相生 为今后 米蘭的发展 完成了 很大量的工作 因此 由他出任CEO 是最适合的 不二的人 我们相信他 在他的带领下 意大利 团队 有能力 把AC米蘭 管理得 越来越好 并取得更好的业绩 使米蘭在世界的 竹堂上 竹堂长久 保持竞争力 今后我们 的目标是 让全世界的 球迷 更加热爱 米蘭 这是我们 米蘭人要做的 就是今后 要做的工作 谢谢 谢谢 专门 专门 米蘭 Bene, ringraziamo il Presidente, adesso è venuto il momento di iniziare la vera e propria conferenza stampa che sarà condotta dal Dottor Fassone che chiamo qui con noi al Desc, il nuovo amministratore delegato del Milan forse non ci sarà la possibilità di fare a tutti le domande però per favore prenotatevi secondo le nostre solite abitudini e cercheremo di soddisfare tutti, grazie. Buongiorno a tutti, giornata importante per me personalmente, storica per questo club meraviglioso permettetemi solo una rapidissima introduzione prima di sottopormi alle vostre domande e curiosità perché poi in questi giorni si rischia di dimenticarsi le cose, di essere travolti dagli eventi e dalla confusione. Ci tenevo solo a fare tre pensieri, il primo, e sono tre ringraziamenti alla fine, il primo certamente a Mr. Lee e a Mr. Han che mi hanno dato questa opportunità e soprattutto che in questi lunghissimi otto mesi trascorsi da agosto ad oggi mi hanno confermato in tutti i modi la loro fiducia. Hanno resistito anche alla tentazione di fare dei cambiamenti, alle pressioni che hanno avuto per mille ragioni e quindi se sono qui oggi è grazie alla loro fiducia che farò il possibile per ripagare nei prossimi mesi con tutto il mio impegno, la mia dedizione e il mio senso di responsabilità che sento molto forte. Il secondo pensiero, al di là di quello che è già stato fatto nei confronti del Presidente Berlusconi va invece alle due persone che ricoprivano questo incarico prima di me ad Adriano Galliani, a Barbara Berlusconi che in questi otto mesi avrebbero potuto avere nei miei confronti un atteggiamento molto diverso e che invece mi hanno accompagnato in questo percorso sopportando quelle che potevano essere delle difficoltà che magari sono state create da questa lunghissima transizione dandomi la loro disponibilità e rivolgendomi dei pensieri anche nelle ultime ore delle parole nelle ultime ore che ho molto apprezzato. Il terzo e ultimo pensiero va a voi e ai tifosi del Milan che in questi otto mesi non hanno quasi potuto avere alcun canale di comunicazione aperto con noi abbiamo scelto di stare dietro le quinte, di non parlare, di spiegare poco e quindi abbiamo reso il vostro lavoro estremamente complicato estremamente difficile nel seguire quello che stava succedendo e mi rendo conto che le difficoltà siano state tante per noi che ogni tanto abbiamo dovuto morsicarci la lingua e per voi che avevate bisogno di seguire quello che succedeva in questo cambiamento epocale avendo soltanto delle informazioni parziali. È stata una scelta, credo alla fine che nel lungo periodo sia stata una scelta giusta giusta, logica e corretta e vi assicuro che invece dal punto di vista della comunicazione della trasparenza e del mettere voi e tutti i tifosi del Milan in contatto con la realtà Milan da questo momento in avanti la relazione sarà diversa e certamente molto più aperta. Detto questo, sono qui a vostra disposizione e ascolto le vostre domande. Grazie dottore. In base alle nostre abitudini iniziamo la conferenza stampa con la prima domanda riservata al nostro canale televisivo Milan TV quindi do la parola a Benedetta Radelli. Buongiorno. Ieri sera c'è stato un passaggio di consegne vero e proprio con una cena ad Arcore dove vi siete incontrati quindi il passato e il futuro volevo sapere se il presidente Berlusconi è riuscito a infondere il proprio amore per il Milan anche a chi, come bene ci stava spiegando il presidente Yong Gong lì insomma vuole trasmettere i tifosi con un grande futuro così ha spiegato. Certo che sì, la risposta non può che essere quella il presidente oltre a tutte le doti che ha è un grandissimo e strepitoso comunicatore per cui ha saputo trasmettere certamente al presidente a David, a me, a coloro che erano presenti alla cena quello che è il suo amore quello che in parte è anche il suo dolore per questo distacco da quella che sente una sua creatura dopo 31 anni quello che è stato secondo me bello e importante ieri sera in questo momento di contatto e che credo che lui abbia potuto percepire da parte della nuova proprietà di non essere qui per una ragione di business per una ragione di chi arriva da migliaia di chilometri di distanza per fare speculazioni ma di affetto, di amore gli è stato trasferito il fatto che loro e noi cercheremo di prenderci a cuore questa sua creatura nel miglior modo possibile e che lui l'ha depositata nelle mani giuste. Proseguiamo con Carlo Pellegatti di Mediaset Premium Sì, buongiorno dottore ci ha fatto sempre capire che il momento più difficile sarebbe stato forse arrivare al closing e dopo era una scollinata una cosa un po' più semplice da che cosa nasce la sua fiducia per quello che riguarda i nuovi investimenti gli sponsor insomma è quello che forse in questo momento i tifosi si chiedono il dopo closing Ma io ovviamente rispondo per me perché io faccio il manager e facendo il manager da oggi inizio a fare un'attività che è più coerente con quella che è la mia storia e la mia esperienza professionale la parte fino a oggi l'ho vissuta dietro le quinte facendo da advisor al gruppo cinese alla nuova proprietà cercando di dare a loro i migliori consigli e i migliori suggerimenti da italiano e uomo di calcio per arrivare a oggi da oggi in avanti riprendo a fare il mio mestiere cioè prendo in mano il club cercherò di gestirlo nel miglior modo possibile con un vantaggio che non mi è capitato in altre esperienze che è quello di aver avuto modo dal 5 di agosto al 14 di aprile di studiare di studiare moltissimo di leggere di conoscere sia pur da fuori tutta quella che è la situazione e la realtà sportiva economica e commerciale di questo club e quindi con la convinzione quel briciolo di presunzione di poter arrivare da martedì quando incomincerà la vera attività operativa all'interno di casa Milan avendo un buon background che ho potuto costruirmi in questo periodo posso fare un'altra domanda? Piccolina breve brevissima mi scusi secondo me il primo biglietto da visita importante della nuova proprietà mi scusi vado subito non lo specifico ovviamente è il rinnovo di Donna Rumma può dire qualcosa oggi ai tifosi riguardo a questo punto al quale i tifosi tengono tantissimi? non avevo dubbi che sarebbe arrivata da lei o da qualcuno la domanda vi posso dire e confermare ne abbiamo parlato anche ieri sera a cena con il presidente che da parte nostra da parte del presidente da parte della nuova proprietà eccetera c'è tutta la considerazione che Gigio Donnarumma merita quindi da parte nostra c'è certamente la volontà di risolvere in tempi brevi questo punto di fare di Gigio una colonna del Milan del futuro sappiamo che in mezzo tra il desiderio di fare delle cose e la realtà ci sono dei contratti ci sono delle discussioni che certamente avremo ed è sicuramente una nostra priorità che affronteremo con il massimo dell'impegno grazie c'è un'altra televisione in diretta con noi Sky Sport 24 Peppe Di Stefano buongiorno direttore ieri il presidente Young Lee diceva tornare sul tetto del mondo a proposito di questo e di programmazione avete un po' un'idea di che tipi di campioni perché i tifosi poi pensano a quello pensano al mercato e anche abbiamo detto noi tante volte che tipo di budget avrete in relazione all'estate perché un Milan che probabilmente andrà risistemato ribaltato sì ovviamente sì abbiamo delle idee abbiamo avuto il tempo con Massimo Mirabelli che sarà come tutti sapete il responsabile dell'area sportiva del Milan e con David Hahn che è il nostro interlocutore quotidiano ci siamo lungamente confrontati in questo periodo è ovvio che scalpitavamo per poter avere in mano la possibilità poi di operare abbiamo visto tantissime aspetti abbiamo fatto incontri abbiamo incontrato club abbiamo incontrato agenti di giocatori abbiamo le idee chiare il passaggio chiave sarà quello di mettersi a tavolino con l'allenatore condividere e comprendere con Vincenzo Montella che le nostre idee siano anche le sue idee che sviluppino i suoi progetti che siano coerenti in modo tale che tutto il gruppo tecnico del Milan viaggi nella stessa direzione e poi poter operare sul mercato per quello che riguarda la parte di budget è certamente un budget importante il presidente e Mr. Han fin dall'inizio non mi hanno nascosto che l'obiettivo dei prossimi anni è quello di ricostruire un Milan molto competitivo e molto ambizioso e quindi certamente avrò la disponibilità economica per cercare di realizzare una squadra che integrata a quella già molto buona che abbiamo oggi possa raggiungere in tempi brevi questi traguardi sarò velocizio anche io in una seconda domanda so che se l'aspetta e probabilmente non risponderebbe neanche Montella o no l'allenatore del Milan l'anno prossimo e quindi faccio un'altra domanda quanto piace a lei quanto piace a Jong Lee quanto piace a da lì Vincenzo Montella rispondo volentieri a questa domanda perché Vincenzo è un allenatore che ha tutta la nostra stima il nostro supporto e il nostro apprezzamento è un allenatore che a giugno dello scorso anno quando venne fatta questa scelta ebbe non solo il gradimento ma il sostegno di Mr Lee e di Mr Han quindi totale pieno appoggio e supporto a Vincenzo Grazie andiamo sempre sulla stessa fila da Enrico Curro della Repubblica Due cose uno uno degli elementi che potrà far capire ai tifosi che il piano è un piano importante è il piano quadriennale da presentare all'UEFA per il voluntary agreement volevo sapere se l'avete pronto e l'altra cosa se è vero come da indiscretto di stamattina che qualcuno della famiglia Berlusconi potrebbe rimanere comunque nell'ambito Milan Sì a tutte e due le domande le risposte sono entrambe affermative la prima è certamente la UEFA a cui va il nostro ringraziamento ha accettato di posporre i termini che erano al 31 di marzo per la presentazione di tutta la documentazione necessaria per il voluntary agreement sapete che il Milan in questo caso sarà un po' una cavia perché il primo caso di voluntary agreement che la commissione si troverà ad affrontare la prossima settimana consegneremo alla UEFA tutta la documentazione incluso il piano il piano è triennale perché la UEFA valuta il break even su una durata di tre anni è un piano su cui siamo molto confidenti e molto comfortable sarà poi discusso con la UEFA nel corso del mese di maggio e quindi mi auguro sotto questo aspetto mi auguro ma sono praticamente certo che non ci saranno particolari problemi la seconda questione è così e devo ringraziare molto Barbara di aver accettato la nostra proposta di fungere da presidente di mantenere l'incarico di presidente di fondazione Milan è un segnale simbolico ma per noi molto importante a cui teneva molto il presidente di mantenere comunque una relazione anche formale al di là di quella sostanziale che ci è stata completamente assicurata ieri da parte del presidente Berlusconi e quindi Barbara continuerà a essere a capo di fondazione Milan andiamo al Corriere della Sera con Arianna Ravelli la stessa terza fila da questa parte qui alza un braccetto grazie buongiorno intanto volevo chiederti se c'è stato un momento in cui avevate un po' perso le speranze insomma raccontarti raccontare un po' questi lunghi mesi di trattativa e un po' insomma visto che ne abbiamo parlato tanto com'è andata il famoso finanziamento che ha un po' salvato la trattativa è una trattativa che avete tutti raccontato ho avuto degli alti e bassi ci sono stati momenti di euforia momenti più complicati io l'ho vissuta dall'italia quindi non posso raccontarvi in dettaglio il sentimento e lo stato d'animo che hanno avuto il presidente e David in Cina certamente ci sono stati dei momenti di difficoltà legati ad aspetti normativi che hanno riguardato il loro paese alla fine alla fine secondo me questa grande volontà questa grande forza d'animo di portare a termine questa negoziazione questa trattativa più importante che ha trovato dall'altra parte da parte della Fininvest anche un riscontro molto comprensivo perché la Fininvest lo sapete benissimo avrebbe avuto in un paio di occasioni l'opportunità di interrompere le negoziazioni di interrompere le trattative invece il presidente Berlusconi gli uomini della Fininvest che voglio davvero ringraziare che sono Danilo Pellegrino e Alessandro Franzosi sono sempre stati attenti a comprendere che la volontà era molto forte e quindi siamo arrivati in fondo per questo con grazie ad alcune operazioni che siamo riusciti ad imbastire nell'ultimo mese ma quello che è importante al di là del sostegno finanziario di uno dell'altro è la fortissima volontà che Mr. Lee e il suo gruppo hanno sempre avuto di arrivare ad acquisire il Milan per ritrasformare il Milan in qualcosa di veramente grande per il loro paese ma soprattutto per tutti i nostri tifosi concluso in questa lunga trattativa definito il closing e adesso come sai i dubbi si sono incentrati sul fatto proprio che ci sia stato così necessario sia stato necessario indebitarsi o chiedere finanziamenti così importanti puoi un po' tranquillizzare tutti su questo? si posso tranquillizzare teniamo distinti due aspetti c'è la parte di indebitamento che riguarda la holding quindi la parte che riguarda la proprietà e quella che riguarda il club per quello che riguarda la holding questa è un'operazione enorme è un'operazione enorme per il calcio italiano voi la potete comparare abbastanza agevolmente con le altre operazioni che hanno riguardato club importanti nel nostro paese è un'operazione i numeri li sapete tutti avete fatto le tabelline ormai li sapete a memoria li possiamo recitare è stato un acquisto da 740 milioni di euro al quale si sommano un centinaio di milioni che è stato il costo della gestione di quest'anno al quale si sommano altri milioni che fanno parte degli impegni per i prossimi anni è stata una transazione da oltre un miliardo immaginare che su una transazione di questo tipo qualunque sia la proprietà faccia questa transazione con una parte di questi capitali non a debito sarebbe follia per quella che è la mia esperienza non voglio fare nomi di altri club importantissimi che sono stati acquistati a leva ma questa è una transazione nella quale la parte debitoria è certamente meno rilevante di quanto non sia successo ad altri quindi su questo aspetto assoluta tranquillità in più aggiungo il club che per me è determinante perché io faccio l'amministratore delegato di questo club il club che prendo in gestione oggi ha un livello di indebitamento che è bassissimo in proporzione a quelle che sono le risorse del club fatto salvo alcuni casi italiani che vengono sempre citati da tutti noi come fiore all'occhiello di gestione economico sportiva perché hanno un indebitamento ancora più basso ma in generale immaginare che un club come questo possa avere un indebitamento così che quindi è già oggi significativamente più basso di quello che c'era al 30 giugno scorso e che andrà progressivamente riducendosi ancora nel corso della stagione 17-18 mi mette nella condizione di usare le leve gestionali del club con relativa tra virgolette tranquillità andiamo da Marco Pasotto della Gazzetta dello Sport di fianco volevo chiederti a livello di business plan ma sportivo il Presidente ha detto il tetto del mondo che è uno slogan molto bello e molto ad effetto però in termini concreti vi siete dati una tempistica adesso non dico per il tetto del mondo ma almeno per ricominciare a fare un po' la voce grossa in Europa cioè due anni tre anni in base anche ovviamente al vostro potere d'acquisto che state dicendo che è abbastanza elevato sì io credo alla fine sai in questi contesti si potrebbero usare tutte le prudenze le risposte in realtà è il Milan siamo il Milan quindi non abbiamo neanche la possibilità di dire piano piano vediamo che succede l'idea che abbiamo è quella di ritornare il prima possibile in Champions League ormai è inutile nascondercelo che la partecipazione alla Champions League in termini di visibilità di risorse economiche di prestigio è la platea a cui un club come il Milan non può rinunciare la nostra assenza da questa competizione è ormai troppo lunga abbiamo un piccolo assist un piccolo neanche tanto piccolo assist e vantaggio che ci è stato dato dalla UEFA lo scorso settembre con la decisione che l'Italia avrà quattro posizioni garantite all'interno della Champions a partire dalla stagione 18-19 e quindi senza nascondersi l'obiettivo è quello che nel 18-19 il Milan partecipi alla Champions League Andiamo col microfono da quello che è il decano dei giornalisti sportivi italiani nonché vicepresidente della stampa sportiva al GLGS Lombardia Franco Ordine Buongiorno in bocca al lupo innanzitutto Crepi Volevo chiedere ci sono alcune figure non ancora definite diciamo per il futuro assetto definitivo della società tra queste la famosa bandiera che doveva essere sventolata e che poi è stata messa da parte volevo sapere se c'era una novità in questo senso e poi ho colto una qualche preoccupazione leggendo alcuni alcuni siti e cioè mi hanno detto che è già pronto il cambio del team manager che ci sarebbe pronto l'ex team manager dell'Inter Romeo per questo incarico eccetera allora la faccio brutale non è che volete portare l'Inter a Milanello? No no io vorrò se sarà necessario portare a Milanello le migliori competenze e i migliori manager e i migliori collaboratori non ho intenzione l'ho già detto poco fa stamattina ho incontrato la responsabile del personale perché nella prossima settimana desidererò incontrare i dipendenti collaboratori della società non arrivo al Milan con nessun pregiudizio assolutamente su nessuna figura del Milan arrivo qui con grande apertura certamente desidero che il Milan per diventare forte sul campo abbia anche una fortissima struttura manageriale e cercherò quindi di individuare in parte li ho già individuati i migliori profili indipendentemente da quella che è la loro provenienza professionale lavorativa ho in mente persone che provengono dalle attività più disparate non soltanto calcistiche e cercherò di dare una qualificazione manageriale a questa società se possibile ancora migliore di quella che troverò se possibile una domanda al volo volevo chiedere i contratti da rinnovare quello fondamentale quello di Donnarumma a seguire ci sono quelli di De Sciglio e Suso avete già pronto anche un calendario di incontri in questo senso? allora come sai ho preferito fino ad oggi non mettermi a fissare appuntamenti eccetera perché credo che la cosa giusta sia aspettiamo oggi anche formalmente l'assemblea ci sarà un'assemblea oggi pomeriggio che ratificherà le decisioni che sono state le proposte che sono state fatte dal Consiglio d'amministrazione dopo l'assemblea a partire da domani inizia la parte operativa e quindi il telefono di alcune di queste persone di questi agenti eccetera squillerà e hai detto bene sono le nostre priorità abbiamo alcuni giocatori in scadenza 2018 altri che non sono 18 ma come Suso che sono certamente prioritari per noi e quindi il calendario sarà serrato fin dalla prossima settimana abbiamo ancora un bel po' di interventi iniziamo con Laura Bandinelli della Stampa ah scusami ho dimenticato la bandiera no no la bandiera la bandiera allora sarà importante che ci sia al nostro fianco anche qualche esponente del club che incarni proprio i colori rossoneri e il DNA di questo di questo club che ci può aiutare per mille ragioni non soltanto per ragioni squisitamente tecniche non voglio dimenticare che ce ne sono all'interno del club quindi un'altra cosa che farò con grandissima rapidità sarà fare una lunga chiacchierata con Franco Baresi che non ho voluto sentire in questi mesi con Filippo Galli comunque con i ragazzi che sono in Milan e che rappresentano il Milan e che già ci sono e che sarà mia intenzione tenere in assoluta considerazione fatto questo che mi sembra la priorità poi certamente in questi mesi ho avuto svariati pensieri negli ultimi 4-5 mesi ho tenuto in freezer questa opzione ricomincerò a pensarci se la devo mettere nel calendario delle priorità rispetto a quelle che tu e altri avete indicato prima prima mi occupo di queste cose e poi dopo ovviamente ci sarà anche quello diciamo obiettivo arrivare all'inizio della stagione 17-18 con l'organizzazione nel limite del possibile messa a punto microfono a Laura Bandinelli della stampa ciao come iniziare con il derby se è all'inizio che sognavi che immaginavi tante volte ho pensato è meglio iniziare con una partita più facile poi alla fine il destino fa gli scherzi che vuole una cosa che mi ha colpito ci pensavo stanotte che è stata la stessa mia ultima partita da dirigente sportivo io ho interrotto la mia carriera da dirigente subito dopo un Inter Milan era esattamente Inter Milan anche quello il caso vuole che ricomincio da un Inter Milan e insomma forse dal punto di vista emotivo emozionale non potevo chiedere di meglio domani sarà sarà bella insomma sperando che il risultato sul campo la renda ancora più divertente Parola a Furio Fedele del Corriere dello Sport arriva dietro il microfono Buongiorno fra le tue tante esperienze la Juventus hai contribuito in maniera concreta alle basi per quello che adesso è il J Stadium e qui a Milano il vero grande problema che accomuna Milan Inter è la gestione di San Siro è il fatto di non avere uno stadio di proprietà capisco che non è il primissimo problema ma forse è il problema più grosso perché gli altri sono più semplici da affrontare che idea ti sei fatto della situazione di San Siro a Milano e della possibilità di avere due stadi a Milano grazie no hai fatto bene a ricordarmelo perché in realtà poi la lista delle priorità è talmente lunga che tra le priorità dovrò mettere le priorità delle priorità però è stata una delle cose che fino dall'inizio fino ad agosto ho affrontato con David e con Mr. Yongong Lee perché ci teniamo tutti a fare sì che il Milan possa giocare in uno stadio con delle caratteristiche che lo rendano uno stadio adatto a questi anni San Siro è straordinario so che anche l'altro club di Milano sta facendo delle riflessioni su San Siro la decisione ovviamente dovrà essere presa dopo colloqui sia con l'altro club sia con il sindaco di Milano sia con il presidente della regione perché le decisioni su che cosa fare devono tenere conto di una serie di aspetti non siamo soli a poter decidere se percorrere una strada o l'altra però certamente lo stadio è una delle cose importanti che vogliamo fare e di cui vogliamo dotare il Milan in un arco temporale che in Italia sappiamo non poter essere strettissimo ma sufficientemente corto con il microfono che arriva dietro però Marco una considerazione Torino non è dall'altra parte del mondo a 130 km mi sembra è vero che c'era già un altro stadio l'Olimpico dove Juve e Torino hanno potuto giocare però questa è una città tenere di conto che sta cambiando di anno in anno dove non è che ci sono tanti problemi né burocratici né economici le aree le conosci tu meglio di me mi sembra che per il Milan e soprattutto per un gruppo così importante come quello rappresentato dal Presidente Yongle non è un problema insormontabile in questa città non lo è hai ragione non lo è anche perché rispetto alla mia precedente esperienza nel frattempo una legge dedicata a questo è stata fatta che ha accelerato i tempi della burocrazia necessaria le lunghezze possono essere perché a Torino i due club erano molto diversi tra di loro dal punto di vista delle dimensioni delle idee eccetera e quindi quando ci si trovò al tavolo con le autorità per decidere che cosa fare non fu complicato ma non complicatissimo individuare quale sviluppo i due club avrebbero potuto avere uno con uno stadio più grande che aveva più disponibilità economica in quel momento un secondo a cui andava bene l'idea dello stadio cosiddetto olimpico che nel frattempo veniva rimesso a posto per le Olimpiadi Invernali del 2006 ci furono una serie di coincidenze che aiutarono i due club sono molto simili dal punto di vista della dimensione delle ambizioni da oggi anche della proprietà quindi sarà molto importante comunque dialogare con loro il sindaco non l'ho incontrato ma ho avuto modo di leggere in questi mesi che ha delle idee molto chiare sullo stadio anche molto innovative in questo senso quindi la parte che io dicevo potrebbe richiedere un po' di tempo è quella di mettere insieme le idee di soggetti diversi che magari sono idee diverse dopodiché una volta che abbiamo trovato un filo che sia di soddisfazione per la città per l'altro club e per noi da lì in poi hai ragione i tempi rispetto al passato possono essere più rapidi di fianco di fianco c'è Stefano Pasquino di Tutto Sport buongiorno Marco quando si insedia un governo si dice sempre il programma dei 100 giorni tu hai detto molte cose interessanti ma volevo chiederti cosa ti senti di promettere in primo luogo ai tifosi che farete sicuramente o comunque molto probabilmente da qui al 15 luglio nei primi 100 giorni del vostro governo magari tre punti che dici queste tre cose le risolvo anche perché comunque non è che finisce dopo 100 giorni però le prime mosse anche programmatiche importanti che intendi fare guarda ne dico due di cose che ce ne sono tante altre che abbiamo già anche anticipato ma ci sono due cose che dal mio punto di vista sono fondamentali la prima è che dobbiamo pensare a costruire la squadra da un punto di vista sportivo calcistico del 2017 2018 avevamo e abbiamo tante idee è abbastanza evidente a tutti voi che il procrastinarsi di questa negoziazione il fatto che la negoziazione alla fine si sia chiusa a un mese dalla fine del campionato e a due mesi dal 30 giugno dall'apertura del prossimo mercato ci ha fatto ci ha costretto a cambiare per strada qualche obiettivo ma questi sono e dovranno essere inevitabilmente mesi caldi perché io Mirabelli l'allenatore e la proprietà portiamo a termine una parte importante della costruzione mi piacerebbe riuscire ad arrivare all'inizio di luglio quando inizia il ritiro quando inizia la preparazione che l'allenatore abbia già a disposizione il 60-70% di quelli che dovranno essere gli innesti che vorremmo fare e quindi grande lavoro su quella parte la seconda parte invece non ne abbiamo ancora parlato ma è fondamentale per questo Milan perché gli obiettivi che abbiamo di tornare rapidamente a essere uno dei club più importanti al mondo non possono che transitare dallo sviluppo del business di questa società sul mercato cinese per me l'operazione che il presidente e i suoi collaboratori hanno in mente di realizzare e di una straordinaria innovatività e non mi nascondo che all'inizio ad agosto settembre quando mi venivano raccontati certi obiettivi ero anche abbastanza scettico e incredulo perché con la nostra mentalità occidentale abituati a quelle che sono le dinamiche anche dei top club dell'occidente pensare che un club di calcio possa avere uno sviluppo importante come quello che loro hanno in mente sui mercati dell'est è quasi irragionevole dopo di che col passare dei mesi con la visita che ho avuto modo di fare in Cina mi sono reso conto che lì c'è un potenziale che può essere esplorato e realizzato appieno soltanto con una proprietà locale ed è la chiave che io mi auguro sia quella di accesso a quel mercato che quasi tutti gli altri club non hanno potuto fino ad oggi avere quindi la creazione e la costituzione di una nostra società in Cina sapete che il Milan ha già alcune subsidiary come Milan Entertainment eccetera la nostra idea è quella di crearne una in Cina deputata squisitamente a sviluppare il mondo del marketing del licensing commerciale di tutte le attività che sono infinite che possiamo sviluppare lì e nei prossimi mesi quindi maggio giugno luglio saranno mesi vitali per la creazione di questa società per iniziare tutte le attività che poi dovranno alimentare anche in modo molto significativo la crescita dei ricavi e del fatturato del Milan grazie alla quale il circolo virtuoso che ci auguriamo possa innestarsi trarrà alimento andiamo da Giulio Mola del quotidiano sportivo buongiorno Marco io volevo agganciarmi proprio a quello che stavi dicendo adesso cioè quello che tu hai sostenuto è uno spot molto importante che arriverebbe in Cina mostrando la faccia migliore del calcio italiano il Milan migliore dal punto di vista del brand del marketing però dal punto di vista dell'incremento del fatturato che è quello di cui tu dovresti penso maggiormente occuparti a medio termine che cosa ci si deve aspettare primo e poi secondo vorrei tornare su un argomento affrontato prima si è parlato appunto di una società che è stata acquistata anche con con grandi investimenti ma a grandi prestiti sappiamo che ci sono anche dei tempi che sono i 18 mesi entro cui restituire una somma importante si è letto si è scritto che le strade sarebbero o la quotazione in borsa o lo scongelamento di capitali del signor Yongong Li che in questo momento sono bloccati in Cina e se tutto questo invece fosse più complicato del previsto c'è un piano C eventualmente? Allora dividiamo la domanda in due c'è una parte per me più complessa forse non è neanche appropriato che dia io la risposta che riguarda le idee i disegni e la strategia che la proprietà ha di sviluppare di sviluppare il Milan io ti posso assicurare senza violare aspetti di confidenzialità che sia a livello di debito che c'è parlo a livello di proprietà non ci sono difficoltà sotto sotto quell'aspetto lì ti posso assicurare che i progetti che loro hanno sotto l'aspetto squisitamente finanziario sono innovativi ed estremamente interessanti per il club poi c'è la parte mia cioè la parte del Milan come lo sviluppiamo questo fatturato del Milan che negli ultimi anni ha avuto dei pesanti rimbalzi all'indietro e che se invece vogliamo riportare il Milan a competere con i colossi di questo mondo deve raddoppiare forse anche di più senza voler fare affermazioni velleitarie e per questo abbiamo due strade di breve periodo e una strada di medio periodo le due strade di breve periodo le ho già menzionate prima ma sono molto significative sono uno la Champions League sapete che con la nuova formula e con le nuove modalità di ripartizione dei diritti che rivengono dalla Champions League l'esserci o il non esserci cambia la vita nel senso che stiamo parlando a partire dal 18-19 in avanti di ricavi per una società non che va in finale o che vince ma per una società che fa il group stage e si qualifica agli ottavi di finale che poi sono le ipotesi diciamo molto non voglio dire conservative ma comunque io mi auguro che il Milan possa riuscire mediamente ad avere questo tipo di track record già queste comportano dei ricavi escludendo quelli che ti arrivano dallo stadio dal fatto che San Siro auspicabilmente con una Champions League potrebbe tornare a riempirsi e quindi generare ulteriori fonti che superano i 50 milioni di Euro all'anno e poi come ti dicevo c'è la Cina che rappresenta per tutti noi un'incognita per noi italiani in modo particolare un punto interrogativo nel senso che sappiamo che fino ad oggi i club europei importanti non sono mai riusciti più di tanto ad arrivare a sviluppare quel mercato ma quello che ho visto io con i miei occhi è che il Milan in Cina è qualcosa di straordinario il Milan vive di ricordi memorie che sono fortissimi importantissimi su tutta la generazione di coloro che lasciamo stare gli ultimi ragazzini nati da poco ma tutte le generazioni dai 30 anni in su se voi parlate con Davide mi ha raccontato quello che era che è stato e che è il Milan per loro il Milan in Cina ancora oggi compete dal punto di vista della notorietà della fama della passione eccetera con i top e quindi lavorando bene con una proprietà cinese con manager cinesi perché noi per la Cina stiamo pensando di mettere lì manager che siano cinesi che conoscano quel mercato che parlino la loro lingua che abbiano una capacità culturale di capire l'interlocutore che è dalla nostra parte e che noi con la nostra presunzione di dire il calcio lo facciamo noi sappiamo noi andiamo là in Cina e proviamo a proporgli le modalità occidentali e non abbiamo mai avuto successo ecco da questo secondo aspetto dovrebbero risultare per noi sono fiducioso che risulteranno per noi una seconda crescita di breve periodo molto significativa la terza è quella di medio periodo a cui accennava qualcuno di voi prima forse furio che è lo stadio sullo stadio l'esperienza ci dice che tutti i club di primo livello che hanno cambiato lo stadio cito giusto per citarne tre uno italiano l'avete detto che era Juventus il Bayern quando è passato dal suo storico stadio in centro alla città all'Alleanzarena l'Arsenal quando è passato da Aibur all'Emirace tutti questi tre club hanno raddoppiato il loro fatturato da stadio l'hanno raddoppiato ad anno 1 non è che l'hanno raddoppiato dopo 5 anni passo da qui a qui e raddoppio lo ha fatto anche la Juventus pur avendo un fatturato più piccolo degli altri quindi se metto insieme questi tre aspetti una stabilizzazione auspicabile nella Champions League del nostro club una stabilizzazione dei nuovi ricavi che arrivano da Oriente e noi ci aspettiamo che siano molto importanti e nel medio periodo uno stadio del Milan sia esso San Siro sia esso un altro questo lo vedremo però che venga ripensato in modo tale con le modalità che oggi conoscete bene sono le modalità europee queste tre cose messe insieme parte nel breve parte nel medio dovrebbero secondo me consentirci di arrivare a competere con i big in un arco temporale non lunghissimo insomma torniamo per qualche domanda dai giornalisti televisivi iniziamo da Mauro Suma di Milan TV Dottor Fassone buongiorno le volevo chiedere questo per tornare un po' al campo che squadra trova che spina dorsale trova e che cosa pensa della partita che ci aspetta domani con la Cito avendolo apprezzato l'altro club di Milano Premetto che tutte le mie osservazioni sono in questo momento l'osservatore esterno ovviamente come potete immaginare da agosto in avanti non ho perso un minuto delle nostre partite pur vedendole soltanto attraverso la televisione le ho commentate ripetutamente con tutti le ho commentate con Adriano Galliani quindi mi sono fatto un'idea che non può essere ancora come la vostra che avete Milanello tutti i giorni è un'idea dall'esterno ma è un'idea che mi sono fatto di una squadra che ha talento e prospettiva credo sia forse la prima volta ma tu mi potrai correggere se sbaglio da uomo statistico ed esperto del Milan che noi siamo la squadra più giovane delle 20 della Serie A cioè immaginare che un grande club scelga per sua strategia di avere la squadra più giovane in campo è un atto di grande coraggio qualcuno lo può definire anche spregiudicato se vuoi ma che per chi arriva dice io qui ho qualcuno che ha seminato e che mi ha lasciato una squadra ricchissima di talenti e di giovani quindi vedo da fuori che ci sono alcuni ragazzi alcuni della cantera che sono la nostra garanzia per il futuro allo stesso tempo ho la sensazione che dobbiamo aiutarli innestando dell'esperienza innestando dei giocatori che possano aiutarli a crescere nel miglior modo possibile creando provando a creare quel mix che di solito è sempre stato di successo tra esperienza talento abitudine alle grandi competizioni e freschezza mentale e psicologica quel mix di ragazzi e di esperti che possa rapidamente farci tornare veramente grandi grossa base su cui secondo me bisogna innestare qualcosa per renderla immediatamente competitiva la seconda parte della domanda era la partita la partita l'ho detto prima rispondendo a qualcuno non saprei fare pronostici mi piace l'idea di vedere il Milan che nelle grandi partite ho visto quest'anno che con gli avversari forti ha fatto probabilmente le partite che mi hanno divertito di più ne sono convinto che domani sarà una partita di quel tipo lì e spero che venga il migliore in particolare se è rossoneo lei ha chiuso vincendo ci auguriamo che riafra vincendo speriamo che sia così a tal proposito non possiamo non dare la parola a Tiziano Crudeli che vedo lì dietro quindi mi sembra un giusto assist prego il microfono dietro a Tiziano Crudeli buongiorno 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 dottor Fassone intanto una curiosità quando segnerà il Milan le sue esultanze saranno composte o alla Gagliani domanda quelle di Gagliani credo siano inevitabili quindi poi ognuno ha il suo stile domani non lo so non so domani chissà cosa mi passa per la testa è la prima e vedremo poi probabilmente sono diverse le mie esultanze ma credo che traspaia insomma la mia soddisfazione la mia gioia nel momento in cui le cose della mia squadra vanno bene quindi lei è milanista vero dentro sai l'essere io ho imparato in questi anni ho avuto la fortuna di fare questo lavoro di stare da tante parti quello che senti dentro a me sembra di essere qui da non so quanto forse questi otto mesi mi hanno anche così aiutato a calarmi in questa mentalità quello che è certo è che quando inizi un lavoro come questo per come lo intendo io e per come credo che lo intenda chi mi ha preceduto lo intendesse chi mi ha preceduto non puoi non diventarlo cioè respiri i tuoi colori respiri la tua squadra i tuoi ragazzi i tuoi giocatori minuto dopo minuto non potrai mai essere considerato un tifoso perché i tifosi sono quelli che da quando nascono ce l'hanno scritto nella pelle mentre noi cambiamo per il lavoro che facciamo ma in quel momento lì hai dentro tutto il sentimento e tutta la passione che la squadra che stai dirigendo e guidando ti mette dentro un'ultima cosa velocissima intanto il rapporto con i tifosi se già li avete incontrati e poi ancora le esperienze che lei ha maturato come manager nel mondo del calcio quanto le sono servite professionalmente? i tifosi no non li abbiamo ancora incontrati come dicevo prima per scelta abbiamo ottenuto e la scelta anche di questa proprietà un profilo abbastanza basso fino ad ora so e vedo che i tifosi hanno organizzazioni di vario tipo restano una priorità io penso sempre che nel fare il mio mestiere noi abbiamo due azionisti di riferimento un azionista che è la proprietà e l'altro azionista che sono i tifosi senza i quali nessun club potrebbe vivere non ci sarebbero neanche le proprietà e quindi con il rispetto che un manager deve alla sua proprietà nel seguirne le indicazioni nel seguirne il disegno strategico l'altro piatto della bilancia è quello su cui ci sono i tifosi non sempre facilissimo far coincidere le visioni sarà il mio sforzo il mio tentativo nei loro confronti questo per quello che riguarda i tifosi ah no l'esperienza beh l'esperienza ormai ho iniziato dopo aver fatto l'arbitro l'assistente dopo ho iniziato la mia carriera come dirigente nel calcio nel 2000 siamo al quinto club a cui noi italiani siamo abituati richiedono cose diverse richiedono dal manager e dal management che si occupi di cose diverse che apra la sua mente ad aspetti che non immaginavamo neanche se pensi che prima in questa sala parlavamo di finanziamenti di quotazioni di aspetti che anni fa proprio non c'erano questo certamente sì mi ha allargato gli orizzonti mi ha allargato la vista non posso definirmi ancora completo perché non si finisce mai di imparare ma certamente i cambi di proprietà diverse di città diverse e di modalità di gestire la società diverse penso mi abbiano arricchito abbiamo l'ultimo quarto d'ora ci sono però ancora tante domande da fare iniziamo con una domanda a testa se possibile da Sport Italia Luca Cilli in fondo buongiorno dottor Fassone due domande sul mercato del futuro ci sarà spazio anche per per i giovani italiani o punterete ad altri profili e anche ieri sera durante la scena di Arcore al momento dei saluti con Adriano Gagliani cosa vi siete detti e se le ha dato qualche consiglio sì allora gli italiani non si può prescindere dagli italiani gli italiani ma al di là dei regolamenti al di là del fatto che sapete tutti che ci sono gli otto posti in lista per i giocatori che o sono cresciuti nella nostra cantera o sono cresciuti calcisticamente in Italia e quindi non solo il Milan ma un po' tutti devono pensarci per fortuna ne abbiamo ne abbiamo di buoni quindi tantissime volte mi sono messo lì a lavorare sulla lista sui posti eccetera per cui una sana riserva di italiani bravi in gamba importanti meglio se cresciuti da noi ma non escludiamo se arrivano da altre parti certamente sì resta una componente fondamentale non abbiamo in testa di andare a prendere soltanto gli stranieri e sotto questo aspetto mi collego alla seconda parte della tua domanda Adriano Galliani mi ha raccontato che all'interno della nostra academy all'interno del nostro settore giovanile ci sono un paio di leve di ragazzi giovani che sono fortissime una delle quali mi ha detto ieri ha vinto tutte le partite di campionato fino ad oggi e quindi immagino che nella pipeline nella filiera dei ragazzi più giovani che arriveranno si possa attingere in futuro con la stessa ricchezza con cui c'è stata l'abilità di attingere in passato grazie andiamo credo che sia Guasco del messaggero perdonami sei tu tu sì sì Pasquale perdonami scusa non ci conosciamo piacere piacere buongiorno Marco la mia domanda è sul CDA che verrà ratificato questo pomeriggio in assemblea se ci poteva anticipare qualcosa su questi manager di altissimo profilo che sono stati scelti vedo in prima fila anche il direttore generale di AXI a Lubo al quale rivolgo il saluto a nome di tutti i colleghi e poi solo sì o no se avete sponsorizzazioni già pronte in Cina la composizione del consiglio di amministrazione che andrà oggi in assemblea credo più o meno l'abbiate scritta tutti per parte mia al di là della componente che fa riferimento diretto al presidente e a David con cui ho avuto il piacere di collaborare in questi mesi c'è una componente di altri tre direttori italiani di altissimo profilo è un aspetto questo che mi rende particolarmente orgoglioso del fatto che abbiano accettato di vivere questa sfida al nostro fianco sono Roberto Cappelli che anche qui oggi è l'avvocato che ci ha seguito in tutti questi mesi che insomma non ha bisogno di presentazioni da parte mia ma come non ne hanno Paolo Scaroni e Marco Patuano sono due manager che hanno guidato le aziende più importanti del nostro paese credo sia un orgoglio avere un consiglio di amministrazione che sia composto da personaggi che possono dare al Milan oltre che a me tutta la loro esperienza la loro qualità e lo hanno accettato con entusiasmo sono curiosi di questa avventura attenti mi aiuteranno a non sgarrare dalla linea giusta quindi sono molto 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 contento di questo consiglio di amministrazione e la seconda forse no ma ecco un'altra cosa importante quando io parlo di attività che verranno sviluppate in Cina certamente potranno esserci anche le sponsorizzazioni che per noi sono la prima cosa a cui pensiamo non si pensa andiamo in Cina loro troveranno 3 o 4 aziende che portano qui vagonate di milioni in realtà non è così in realtà probabilmente ci saranno non ci sono ancora ma probabilmente ci saranno ma il mercato cinese è un mercato che va fatto e approcciato con un occhio un po' diverso bisogna far convivere la dimensione commerciale con la dimensione pubblica è un mercato è un paese che ha bisogno di fare crescere il calcio che vuole fare crescere il calcio fin dal livello dei bambini dei bambini piccoli che lo vuole fare crescere nelle scuole nei confronti del quale c'è un rapporto di dare e avere mentre noi ogni tanto pensiamo di andare là prendere i soldi e portarli qua in realtà non sarà così noi dobbiamo portare qualche cosa a loro e loro sono disponibili a fare investimenti con noi noi dobbiamo portare la competenza calcistica che abbiamo in Italia e loro sanno di non averla portarla là aiutare i ragazzi a crescere pensa che una cosa che mi ha colpito tantissimo quando sono stato in Cina e ho cominciato a capire il loro mondo è che i ragazzi che giocano a calcio nelle scuole all'interno delle scuole pubbliche non hanno dei campionati non fanno partite al sabato e alla domenica mentre noi siamo abitati con i nostri figli con i nostri ragazzini che vanno sul campo tutte le settimane il sabato e la domenica che la federazione ci organizza le partite dai pulcini agli esordienti ai giovanissimi agli allievi eccetera lì non c'è la federazione organizza il grande campionato delle stelle la Super League è una seconda divisione e poi tutto è lasciato alla fantasia quindi se noi lì abbiamo la capacità di andare da loro e aiutarli a costruire qualcosa portando quello che il Milan ha dentro di sé la parte importante per noi di crescita nascerà non solo dagli sponsor che probabilmente ci saranno ma anche da questo grande lavoro che dobbiamo fare ben tornato al direttore Xavier Iacobelli qui diamo il microfono grazie buongiorno in tutto quanto tu hai esposto riguarda ovviamente il piano di lavoro e di sviluppo del Milan il Milan in questi anni inteso come società e peso politico nella struttura del calcio italiano ha ricoperto un ruolo molto importante ovviamente attraverso la persona di Adriano Galliani stante la situazione attuale che eufemisticamente si può definire di stallo nella Lega di Serie A quale sarà la posizione del tempo del lavoro del tuo team in seno al Milan pensi che sia arrivato oserei dire finalmente il momento di cambiare anche il modo di guidare la Lega di Serie A penso per esempio anche alla questione della ripartizione dei diritti televisivi allo sfruttamento dell'immagine del calcio italiano tant'è vero che per la prima volta si disputerà un derby milanese all'ora di pranzo proprio per favorire la platea sterminata televisiva asiatica quali sono le tue idee al riguardo e soprattutto quali saranno le posizioni che il Milan prenderà sai bene che su questo terreno si intrecciano due aspetti uno è quello più politico e uno è quello economico spesso la Lega di Serie A è andata in difficoltà nell'assumere decisioni anche di cambiamento quando i due assi si intersecavano tra di loro e non si riusciva a prendere decisioni che strategicamente magari avrebbero avuto anche una condivisione larga per ragioni banalmente economiche ora la posizione del Milan io in questi mesi ovviamente con Adriano Galliani con Leandro Cantamessa che rappresentano hanno rappresentato fino a ieri il Milan in Lega mi sono confrontato spessissimo su quella che è la posizione del club ma anche in passato siamo quasi sempre stati allineati con le posizioni del Milan i due aspetti sono molto semplici il primo riguarda la governance della Lega che dal nostro punto di vista non può non essere cambiata nel senso che abbiamo una Lega che ha ancora una governance diciamo adatta al calcio pre calciopoli per mettere un argine o un qualcosa che segna un periodo storico per il nostro calcio mi pare da quello che ho capito che ci sia una buona convergenza sull'idea di avere una Lega che venga amministrata da un amministratore delegato da scegliersi sulla base di caratteristiche manageriali e competenziali che possono aiutare a trasformare un po' di più la Lega in un'azienda in un'impresa e quindi su questo mi pare ci sia un buon accordo poi dovrò vedere bene i dettagli leggermi le proposte eccetera ma certamente la mia idea è quella di andare in quella direzione dal punto di vista della governance e poi c'è l'aspetto economico che spesso mette un paletto dice vabbè anche se siamo d'accordo su questo ma dobbiamo sistemare gli aspetti economici su quello mi pare abbastanza evidente che le grandi squadre tra cui il Milan cerchino di fare in modo che le ripartizioni non depauperino e non impoveriscano una fonte che è la fonte principale di ricavi allo stesso tempo bisogna stare attenti a fare sì che quella che oggi è la grande differenza che c'è tra la Serie A e la Serie B non crei traumi troppo grandi alle società che hanno la sfortuna di essere retrocesse credo che su questo aspetto qui il compromesso e la visione di insieme sia ancora un po' più lunga a venire e bisognerà lavorarci però per tornare indietro e per non eludere la tua domanda la visione che ho io e che credo debba avere il Milan è quella di andare anche sulla Lega non soltanto all'interno del club in una direzione che sia una direzione di modernizzazione e di adeguamento ai tempi di oggi che sono diversi rispetto a quelli di qualche anno fa Dottor Fassone abbiamo ancora qualche domanda ce la sentiamo ad andare avanti cerchiamo di concentrare ma sono io anche che sono lungo alle volte chiedo scusa Carlo aspetta c'è prima una signora si tratta di Monica Colombo del Corriere della Sera buongiorno le volevo chiedere qual è il settore diciamo della squadra dove pensa di intervenire di più in fase di mercato e poi abbiamo letto tanti nomi io non le chiedo di promettere ai giocatori l'arrivo di X o di Y ma anche perché appunto siamo solo nel mese di aprile ma se davvero c'è comunque la volontà di cercare un grande attaccante ad esempio abbiamo letto i nomi di Obama Young Benzema insomma i profili sono di questo livello allora non è che ci sia un settore della squadra che noi riteniamo più fragile o più debole o più debole di altri le idee che il direttore Mirabelli ha sono quelle di un rafforzamento della squadra e poi è sempre il mercato che ti dice dove riesci realmente a raggiungere gli obiettivi che ti sei posto o no e soprattutto vanno condivisi con Montella prima di poter rispondere bene a questa domanda mentre sui profili sì posso rispondere che alcuni dei nomi che sono stati fatti in questi mesi sono certamente dei nomi che piacciono alla società è giusto dire che ci piacerebbe avere all'interno del club uno o due profili di altissimo livello e di altissimo spessore per tutta una serie di ragioni che potete immaginare dal dire al fare c'è sempre di mezzo la volontà di tutti e quindi ci deve essere la volontà nostra ci deve essere la volontà del club e ci deve essere la volontà del giocatore se riusciamo a mettere insieme queste tre volontà ci piacerebbe andare in quella direzione Carlo Laudiso della Gazzetta dello Sport benvenuti a tutti innanzitutto mi volevo solo integrare al volo perché alla risposta sulla Lega c'era sorgeva spontanea una domanda perché alleggia la candidatura di un manager che ha fatto la storia di questo club e non solo c'è Adriano Gagliani il nuovo Milan appoggerà questa questa candidatura che già ripeto è nei fatti e poi se mi è permesso un'altra domanda io non ho ancora capito bene questa candidatura la leggo la sento se ne parla sottovoce non è emersa però Adriano ha la mia stima ha il mio appoggio cercherò di capire meglio se stiamo parlando del Presidente con lo statuto di oggi del Presidente con lo statuto nuovo credo che la priorità sia capire che ruolo avrà il nuovo Presidente della Lega se per parlare lo stesso di oggi o di domani se ci sarà un amministratore delegato oppure no ma ho già detto e ho già garantito a Gagliani in tutti i modi che qualunque siano queste nuove strutture qualora lui dovesse avere piacere di andare in quella posizione ha certamente l'appoggio da parte della nostra società La domanda di Marcato non poteva mancare si parla tanto del rinno di Donnarumma ma si parla anche della difficilissima ritengo conferma di Deolofeo questo tema credo che sarà d'attualità anche questo con Montella immagino sarà di attualità sicuramente nel senso che sappiamo tutti e non voglio ripetere che abbiamo alcuni giocatori in prestito che sono prestiti secchi per le ragioni che tutti sapete per quello che ho visto da fuori certamente questo ragazzo ha un potenziale un talento enorme ne parleremo col mister cercheremo di capire come muoverci nei prossimi passi da fare nell'ambito della costruzione della squadra e poi vedremo andiamo in mezzo da Paolo Cappelleri dell'ANSA buongiorno volevo sapere se il progetto della nuova proprietà include anche la possibilità di inserire nuovi soci probabilmente cinesi visto che era un'ipotesi di cui si era parlato all'inizio e poi era risultata complicata dai vari problemi politici francamente non ho idea di che cosa il Presidente deciderà di fare in futuro per il momento lui ha fatto questa scelta importante e coraggiosa di essere l'azionista del Milan il riferimento del Milan lui è il nostro riferimento in futuro sono sicuro che prenderà le migliori decisioni per questo club mi permette una domanda un po' antipatica voglio sapere come la nuova proprietà ha vissuto in questi mesi lo scetticismo derivato dal fatto che fossero minime le informazioni sul signor Lee arrivate in Italia mi fai un'altra domanda in cui dovrei risponderti a nome loro ti posso rispondere per me per quello che ho percepito io è evidente che ci sia stato anche dello scetticismo abbiamo fatto volutamente questa scelta nella fiducia e nel convincimento che un giorno prima o dopo sarebbe arrivato questo momento non penserei tanto a quello che è successo l'ho detto nelle mie premesse lo abbiamo desiderato noi parlare prima non è appropriato anche parlare da oggi in poi secondo me non è tanto appropriato dal punto di vista delle parole ma quello che ci ripromettiamo di fare è di farlo con i fatti andiamo sempre lì di fianco da Luca Pagni di Repubblica buongiorno giustamente dice che sulla questione debito sulla questione soci sulla questione notizie che arrivano dalla Cina devono rispondere alla proprietà però c'è un progetto invece finanziario economico che riguarda Amina che se fosse lei me lo può confermare riguarda lei perché deve prepararlo lei cioè sulla possibile quotazione in borsa quindi voglio capire se c'è un progetto in questo senso c'è un'ipotesi almeno e se dove vorreste quotarvi c'è questa possibilità all'orizzonte non escludo questo scenario di dover lavorare in futuro su questo sul dove diciamo su quale potrebbe essere la borsa ne parleremo con la proprietà con Mr. Lee e con David però uno scenario possibile di valorizzazione del club potrebbe essere una futura quotazione in borsa andiamo in fondo da Maurizio Pizzo Ferrato dell'agenzia Area Salve Fassone piacere ritrovarla recentemente Roberto Mancini ha detto che uno degli errori dell'Inter è stato quello di aver allontanato Fassone perché era fondamentale in quel momento per il club quindi è chiara la stima che c'è fra lei e Mancini fermo restando quello che ha detto su Montella se ci dovesse essere qualche problema lei vede Mancini allenatore del Milan Mancini è uno dei più grandi allenatori che io conosco non ha bisogno da parte mia di endorsement mentre ringrazio io lui di quello che ha fatto per me ma non vedo il dubbio su Vincenzo cioè ci tengo proprio a richiarirlo ancora se fosse necessario Montella è l'allenatore di questo Milan è una persona di cui ci fidiamo credo e auguro a Roberto Mancini di poter presto trovare una squadra all'altezza delle sue ambizioni ma nel futuro del Milan c'è Vincenzo microfono avanti da Giovanni Capuano di Radio 24 grazie sarò telegrafico lei ha vissuto la prima parte del primo cambiamento di proprietà dell'altro club di Milano e in quell'occasione uno dei primi interventi è stato ristrutturare il debito con Goldman Sachs volevo capire per la parte che riguarda il Milan se avete in progetto di fare un'operazione simile ed eventualmente ricavare un surplus da investire poi sul mercato grazie l'ho fatto anzi grazie della domanda Giovanni perché l'ho fatto magari su questo c'è stata un po' di confusione mentre all'Inter l'abbiamo fatto alcuni mesi dopo che la proprietà è arrivata con Mr. Lee e con David abbiamo deciso di farlo prima quindi nell'ambito dell'operazione con Iliot una parte importante del finanziamento è destinata al Milan una prima parte di questo finanziamento già arrivata è quella che mi ha aiutato a rimborsare subito in data di ieri tutti i debiti che il Milan aveva con le banche italiane che in questi anni hanno supportato il Milan e che sono già state tutte liquidate e una seconda parte sapete i numeri li avete scritti sapete che la somma dei due numeri fa 123 e una seconda parte è certamente destinata e sarà da noi utilizzata a supporto della campagna estiva di quest'estate dell'estate 2017 abbiamo due interventi consecutivi del sito Milan News iniziamo con quello di Antonio Vitiello per piacere uno a testa salve dottor Fossone le volevo chiedere tornando sul capitolo calciomercato lei ha detto che per il mercato estivo ci sarà un buon budget secondo lei secondo anche la sua esperienza accumulata in questi anni il Milan valutando l'attuale rosa sarà già competitiva per lottare per lo scudetto ho detto prima che 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 l'obiettivo che ci stiamo dando è la la Champions League però noi vogliamo fare una squadra forte non stiamo lì sappiamo che ci sono squadre in questo momento più forti di noi ci sono squadre che negli ultimi anni hanno segnato un distacco in classifica importante so che le cose non si fanno schioccando le dita e abbiamo esempi di altri club che hanno avuto necessità di un po' di tempo però vogliamo fare una bella squadra e siccome abbiamo la fortuna di trovare una squadra che ha già una base importante io sono confidente faremo il possibile per fare sì che la squadra che metteremo in mano al mister a luglio sia già una squadra forte il secondo intervento è di Pietro Mazzara dietro buongiorno direttore quest'anno c'è l'obiettivo lei ha detto che il Milan deve puntare alla Champions League quest'anno c'è l'obiettivo dell'Europa League perché la classifica parla di questo quanto può essere importante già dalla prossima stagione affrontare una manifestazione come l'Europa League e poi le chiedo in breve se ci può magari dare qualche dettaglio sulla struttura sportiva del nuovo Milan oltre a Massigliano-Mirabelli l'Europa League è importante sarebbe un passo importante perché l'assenza dalle competizioni europee per troppi anni non va bene bisogna riabituarsi a giocare durante la settimana bisogna riabituarsi a uno stile e una modalità di vita sportiva che è proprio dei grandi club so bene ogni tanto leggo che giocare solo la domenica ti permette più riposo ti permette più tempo ma se vogliamo essere in Champions un Milan forte che fa paura all'avversario nel 2018 sarebbe bello e sarebbe importante secondo me se avessimo un anno di passaggio nelle coppe che ci fa ritornare a pensare alle partite in notturna a metà settimana poi su questa stagione ovviamente noi arriviamo e osserviamo quello che è ma non nascondo che ci farebbe piacere per quello che riguarda la struttura sportiva al momento diciamo da oggi ci sarà Massimiliano-Mirabelli che ne prende la responsabilità non ho intenzione di fare dei cambiamenti domani c'è una struttura del Milan che è il Milan quindi non è che troviamo la struttura poi sarà Massimiliano che avrà modo di chiacchierare valutare vedere tutti nei prossimi mesi nelle prossime settimane sono mesi importanti abbiamo la fortuna di avere da metà aprile a fine maggio per capire un po' di più e conoscere e fare le valutazioni e mettere in pista il meglio che riusciremo a fare dal 5, 6, 7 luglio quando Montella deciderà di convocare l'inizio della prossima stagione di fianco a Mauro Suma il collega che ha chiesto la parola non ci conosciamo quindi presentati per favore si sono Francesco Spinini della stampa no io in realtà mi collegavo proprio alla quotazione ma chiedevo ma l'eventuale quotazione è per ripagare il debito sostanzialmente questo sarebbe lo scopo no di nuovo teniamo distinti gli aspetti Milan rispetto agli altri quindi ho risposto volentieri alla domanda della quotazione perché se il Presidente decidesse di quotare sarà un lavoro nostro fare il lavoro per portare il Milan lì poi tu adesso mi fai una domanda immagino per quello che riguarda il debito di sopra non il debito mio rispondo di nuovo come ho risposto all'inizio su quel debito lì stante l'entità non vedo particolari problemi mentre sul debito che c'è di sotto e quindi il debito che ho di sotto nella struttura finanziaria ovviamente quindi il debito di cui si fa carico il Milan la dimensione è talmente direi normale meno che normale che non ho particolari preoccupazioni domani mattina di dover pensare a come rifinanziare questo debito allora abbiamo le ultime due domande per fortuna rapide in fondo da Paolo Vinci e poi di fianco a lui buongiorno buongiorno dottor Fassone volevo chiederle se nell'acquisizione tutti gli immobili relativi del Milan sono passati ovviamente alla nuova proprietà e soprattutto se avete avuto un approccio già con Milanello oppure no gli immobili sono passati con la proprietà quindi ieri c'è stata la cessione delle quote della Fininvest alla Rossoneri Lussemburgo incluso tutto e Milanello no nel senso che il nostro piano il nostro programma prevede questa sera la termine di questa lunga giornata di andare a vedere il centro a salutare l'allenatore nella squadra l'ultimo Calcissimo TV Alessandro Iacobone volevo fare una domanda un po' più tornando sul derby a parte il derby di domani nel campo è già iniziato quello tra i tifosi tra quale tra i cinesi siano migliori se quelli dell'Inter o quelli del Milan ecco ovviamente non potendo fare la domanda al presidente la domanda che le faccio è questa ha avuto questa sensazione che possa giovare entrambe le squadre un derby su chi possa avere la predominanza della calcistica e quindi anche tra virgolette di marketing nel loro paese io penso di sì io penso ho sempre visto che dove c'è una competitività sana una rivalità sana le cose vanno meglio quando tu ti trovi di fronte a due soggetti che vogliono per qualche ragione primeggiare se ne traggono dei benefici rispetto a quando c'è un monopolio di qualcuno per cui io penso che per questi due club per questa città in particolare il fatto che ci sia stato un cambiamento se volete così traumatico perché due proprietà storiche che hanno segnato il passato di questo calcio a cui tutti noi siamo rimasti legati e affezionati con due proprietà nuove entusiaste che vengono da un paese che ha una fame straordinaria di football faccio veramente l'augurio non soltanto ai proprietari ma a tutto il nostro calcio che sia un bene per tutti noi e grazie a tutti voi per aver partecipato a questa prima conferenza stampa un arrivederci a presto grazie a tutti bene grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti